Voglio, hai già visto certe cose in questo canale? Che voi non potete proprio immaginare Salve a tutti ragazzi, io sono Mennoz Vabbè, lo zio Mennoz Lo so, sono un po' vecchio per fare lo youtuber Anche se io non è che mi ritengo tale Mi ritengo più un videomaker Cioè faccio i video per passione Poi li pubblico E se voi avete piacere E li guardate Cioè la mia faccia è rivolata subito Non sono un comico Non faccio ridere Quindi direte voi adesso Ma lo chi cazzo sei? Iscrivetevi al canale e lo scoprirete Scoprirete i miei mille volti Le mie mille personalità Mettete parodie Ma non si parla domande? Ma perché vado a lasciarlo? Effettivamente è una domanda logica ma Non sono mai stata una tipa da risposta logica Doppiaggi napoletani Doppiaggi napoletani Doppiaggi napoletani Dicke di bala sia il nuovo messi Può anche essere il nuovo Ronaldo Chi di bala? Si di bala Ma di bala al massimo può essere a gualla da me A furfora che ti ingangato Niente di giù vlog su napoli ma io l'ho detto dal dalla prima giornata prima che ha cominciato il campionato chi stanno e pane e persa tutto quanto no no sì o no ma tutto quanto pane e persa effetti speciali non mi basta guardi ci stanno e firmano, lo faccio e firmano a loro, lo firmano in quantità per le donne che avranno piacere di vedere meglio ci sono io scuffata se è poco un saluto a tutti e iscrivetevi al canale e buona visione